Oh, guarda, una busta! La prendo io che so leggere. Perché sei sempre così sgradevole? Vediamo, vediamo. Delle domande. Presentatevi. Ma non è una domanda. Come mai sei così scemo? Ok, presentatevi. Che stronti. Ciao a tutti. Noi siamo i Costantini, i primi concorrenti ufficiali della nuova stagione di Pechino Express. Altra domanda. Vi sentite pronti a tutto? No. Io no, non sono pronto a nulla. Ma scusa, allora che partiamo a fare? Secondo te si mangerà bene almeno? Non lo so, Costa, però non credo che questo sia lo spirito giusto. Per me il cibo è molto importante. Ok, va bene. Vai, va. Chi sarà, secondo voi, il conduttore di Pechino Express? Oddio, speriamo che non sia... Quella m***a! Della Gianfrandesca! Ma no! Gerardesca! Ah, della Gerardesca! Ora che ci penso, è molto prepotente ma non ha una ruga. Eh sì! Un gran professionista. Adesso cosa facciamo? Adesso dobbiamo preparare le zaini. E dove ci vediamo? Quando? Prossimamente su Sky. Sì! Sì!